Capogruppo di Rifondazione Comunista, cosa non va in questa proposta di legge sulla nuova legge elettorale della Regione Abruzzo? Nella proposta di legge andava tutto bene, abbiamo trovato un accordo di massima, soprattutto su una riforma che noi caldeggiamo da lunghissimo tempo, cioè l'abolizione del listino dei nominati, cioè di quei consiglieri che vengono eletti senza preferenza, perché vengono messi in questo famigerato listino indicato dal candidato presidente. Questa possibilità di riforma su cui si sarebbe d'accordo viene minata dal tentativo, devo dire purtroppo, del Partito Democratico e supportato da Confindustria di introdurre attraverso l'emendamento nella legge lo sbarramento al 6%, per uno sbarramento volto chiaramente a colpire le forze della sinistra radicale. Io direi della sinistra e basta, definire di sinistra il PD dopo che adesso è giunto ad appoggiare il governo Monti, mi sembra francamente eccessivo con tutto il rispetto per milioni di elettori di questo partito che invece sono cittadini progressisti e di sinistra. La Confindustria chiede di eliminare noi, il PD presenta il suo emendamento, noi faremo battaglia, barricate, ostruzionismo oltranza per difendere la democrazia. Faccio notare che è possibile prevedere sistemi con sbarramento, anche elevato, c'è la Germania al 5%, ma sono sistemi integralmente proporzionali in cui non c'è il cosiddetto voto utile. Ognuno vota per il partito con cui si identifica di più. Noi saremmo favorevolissimi a un sistema tedesco.